Buongiorno 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 Allora ci siamo svegliate Abbiamo fatto colazione E fra poco andiamo In giro per Perugia Adesso sono sul terra Perché volevo farvi vedere La vista che c'è dalla mia camera Questa è La vista Si dovrebbe vedere Quindi Adesso Mi ammazzo Quindi adesso Lasciamo la camera E andiamo alla scoperta Di Perugia Pronti a salire Le scale? Siamo quasi arrivati Parla di questa esperienza Troppo faticoso Ma come è stata? Faticoso Da rifare Aveteva l'ora di farla Esatto Belle vi sono piaciute? Molto molto Comfortevoli Sì 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 Cazzo La Tong Vuole una suora Camminando per Perugia Pieno di archi Siamo arrivati in piazza 4 novembre Lì c'è Lì c'è la fontana Qui c'è l'Irene E ci sono tutti i fotografi Questi siamo noi In questa bellissima piazza E E C'è lì c'è lì C'è lì c'è lì No 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 Siamo nella Rocca Paolina Qui tutti i fotografi stanno facendo le foto La Kim Perplesso Ciao 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 Tong saluta Ciao 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 E ora Mostra di Steve McCarry Questa è la visuale della mostra dall'alto E' bellissima fatta così Con le foto sul pavimento E c'è anche questa parte qui E Questa parte qui E questa è tutta la visuale E dopo il primo ci manciamo pure il dolce Ciao 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 Siamopresi Io viaggio tanto perchè sono figlia a Ginevra e lui ogni tanto va a girare la Svizzera e beh, bella la Svizzera allora se io dico che so di Perugia ma lei sta al sud adesso assisteremo anche alla sfilata di bande musicali stavolta Svizzera io mi sono venuta va se lo fai riusciti si riparte e torniamo a casa io? io ci trovo siamo un po' stanzi se vuoi cantare? guarda torniamo a casa se cantiamo cominciamo dai giù quindi buon viaggio a noi alziamo